salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi faccio questo video per condividere con voi la mia esperienza per quanto riguarda la connessione internet una cosa ovviamente che interessa tanti o praticamente a quasi tutte le persone perché comunque chiunque ormai utilizza una connessione internet quello che vedremo oggi è una connessione internet domestica quindi per l'abitazione perché tanti di noi hanno problemi spesso e volentieri su quale operatore scegliere su quale tipo di servizio scegliere perché veramente è complicato qua da noi in italia avere una rete performante quando non abitiamo nelle grandi città questo è un problema che ho avuto io fino adesso ma finalmente ragazzi ho risolto il problema non mi sembra vero dopo tanti anni veramente incredibili perché comunque siamo nel 2022 e non abito in un paese fuori sperduto nel nulla comunque abito in un paese nella provincia di lecco in un paese di 5.000 abitanti ma che veramente a livello di servizio di fibra ottica è davvero scandaloso quindi dopo tanto tempo sono riuscito a migliorare in maniera davvero incredibile la mia rete internet e come ho fatto ragazzi sono riuscito passando alla rete fwa di wind e ragazzi questo video ovviamente non è sponsorizzato da wind perché wind manco sa che esisto come canale youtube ma è solo perché quando trovo qualcosa che veramente mi entusiasma mi piace condividerlo con gli altri soprattutto perché anche gli altri almeno possono anche loro trarre vantaggio da qualcosa che funziona bene perché comunque come sapete la maggior parte delle cose che riguardano la telefonia qua da noi non funziona benissimo spesso rimaniamo delusi o per il prezzo o per la copertura piuttosto che mentre stavolta ragazzi sono rimasto pienamente entusiasta ma andiamo con ordine partiamo dall'inizio allora io da qualche anno avevo la connessione mista fibra di team che ovviamente come sapete è una connessione a metà nel senso che non arriva la fibra a casa ma la fibra arriva in alcune cabinette del paese dove abitate o della città dove abitate perché questo problema ovviamente più nei paesi che nelle città quindi questa fibra di team arrivava in una cabina la più vicina a casa mia era a 800 metri il problema di questa linea mista cos'è che ok dove c'è la cabina arrivano prestazioni fino a 100 mega in download e circa 30 o 40 in upload su una cosa del genere mentre allontanandoci dalla cabina andiamo a perdere in maniera drastica un sacco di mega ma proprio in maniera veloce pensate che io arrivando agli 800 metri di distanza in cui sono nella cabina in cui arrivava la fibra arrivavo ad avere in download 13 14 mega e in upload circa 2 mega e capite che per uno come me che carica un sacco di video su youtube avere 2 mega in upload diventa una cosa impossibile perché comunque caricare i video soprattutto quelli che faccio con i droni che sono magari tanti giga di video caricarli con la maniera era impossibile quindi cosa dovevo fare dovevo sempre usare come hotspot il mio cellulare quindi usare i giga del mio cellulare che in upload è molto più performante rispetto alla mia rete fissa che avevo e a quel punto riuscivo a caricare i video in una velocità accettabilissima però ovviamente perché consumavo i giga del telefono quindi dovevo fare ripartire prima la mia offerta fortunatamente con l'operatore che ho nel mio telefono posso far ripartire la mia offerta una volta che ho finito i giga senza aspettare la fine del mese della ricarica che ho effettuato però ovviamente capite che pagare una rete fissa che comunque devo avere perché per far funzionare anche tutta la domotica di casa devo avere una rete fissa ma pagare circa 40 euro al mese la rete fibra di team che poi non è una fibra mista in più particolarmente lenta capite che è davvero davvero una cosa che crea un fastidio incredibile quindi sono andato avanti per circa due anni con questa situazione perché comunque anche cambiando operatori di fibra non cambiava niente perché il discorso è sempre come vi ho detto dove arriva la fibra nella cabina e la distanza dalla vostra abitazione dalla cabina in cui arriva la fibra e poi un giorno ho deciso di cambiare totalmente il tipo di connessione ho pensato ad eolo ovviamente però anche lì abbiamo prestazioni che non sono adatte al mio utilizzo perché comunque abbiamo un 30 in download e un 3 in upload quindi un 3 mega in upload per il mio utilizzo sono ancora pochissimi avrei usato ancora il cellulare avrei risparmiato per quanto riguarda la bolletta ma avrei usato ancora il cellulare per caricare i miei video poi a quel punto ho valutato anche altri operatori sempre con onde radio che però anche lì non mi davano prestazioni importanti dove abito io finché ho deciso di passare comunque alla rete fwa di un operatore telefonico team scartata subito perché da un prezzo più alto di quello che ho scelto io che è quello di wind e poi abbiamo un limite di prestazioni anche lì 40 in download e 4 in upload quindi sarebbe stata ancora lenta e non avrei risolto il mio problema avrei solo risparmiato sulla bolletta ma il problema sarebbe stato lo stesso allora ho guardato vodafone vodafone da delle prestazioni più importanti 100 in download e mi sembra 30 in upload una cosa del genere se non ricordo male con un prezzo di 19 euro 90 al mese quindi la mia bolletta sarebbe costata la metà rispetto a quello che pagavo la rete fibra di team e quello già sarebbe stata una cosa interessata infatti la mia prima scelta è stata quella ho optato per quella poi per varie vicissitudini burocratiche di vodafone il primo ordine è andato male perché non so cosa è successo sempre tutto a livello burocratico mi è arrivata la sim ma poi il mio ordine è stato chiuso ho rifatto l'ordine un'altra volta è arrivato il tecnico che voleva montarmi l'antenna fuori dalla casa mentre l'antenna fuori comunque si è vantaggiosa ma crea dei disagi da punto di vista appunto logistici dell'antenna perché non è che si può mettere dove si vuole deve essere direzionata verso l'antenna che ci deve inviare le onde radio e anche lì finché il tecnico ha deciso che non poteva montare l'antenna ha fatto la richiesta per avere il modem interno quindi quello senza antenna ma poi in realtà non mi hanno mai ricontattato quindi è finito tutto nel niente perché alla fine non si sono fatti più sentire allora preso dalla disperazione più assoluta ho guardato wind e ragazzi quanto mai non l'ho guardata prima ovviamente io parlo per la mia esperienza per dove abito io per dove probabilmente è l'antenna che mi invia le onde radio a casa mia quindi come distanza cioè tutti questi dati che non so però ragazzi so che le prestazioni sono incredibili e la rete ragazzi ad un prezzo veramente accettabile rispetto a quello che pagavo prima la rete di team uno perché ha prestazioni pazzesche due perché risparmio sulla bolletta come sapete la rete fwa è una rete che vi arriva a casa con le onde radio quindi un po' come se fosse il cellulare se vogliamo e ovviamente ci da una copertura molto più ampia e arriva un po' dappertutto poi come vi ho detto dipende sempre anche la distanza che avete l'antenna rispetto alla vostra abitazione quindi a quel punto allora ho deciso di attivare la rete fwa di wind per attivarla non si può attivare online quindi non lo si può fare dal sito mentre con gli altri operatori si può fare online questa rete se la si vuole attivare bisogna andare in un centro wind uno dei tanti che troviamo nei centri commerciali e ragazzi siete subito operativi io sono andato mi hanno dato subito il modem con la sim dedicata da inserire sono venuto via dal negozio sono arrivato a casa ho tirato fuori il modem dalla scatola cioè così ho inserito la sim ho collegato la spina nella corrente ho acceso e ragazzi pazzesco pazzesco quando ho fatto lo speed test sono rimasto così perché comunque essere abituato avere una rete in casa chiamiamola vergognosa perché comunque nel 2022 non si può dare una rete domestica di questo livello perché poi come vi ho detto non abito in un paese sperduto in cima alla montagna quindi è davvero stata una cosa sbalorditiva e lo speed test tra poco lo faremo perché voglio condividerlo con voi appunto perché quando una cosa va bene secondo me va pubblicizzata perché vediamo spesso tante pubblicità di cose che poi non funzionano ma quando una cosa come nel mio caso ripeto nel mio caso per la zona non lo so vi aspetto anche voi qua sotto nei commenti per sapere la vostra opinione se l'avete provata se anche voi avete avuto questa esperienza se invece l'avete avuta negativa non lo so comunque vi aspetto qua nei commenti è stata ed è un'esperienza davvero pazzesca allora quando voi andate ad acquistare questa linea lei viene venduta a 22 euro al mese 21,99 per la precisione quando l'andate ad attivare dovete dare anche un 50 euro di anticipo del modem questo è un modem che vi viene fornito non potete non averlo vi viene fornito è un modem di Huawei comunque è un modem che costa circa 200 250 euro quindi un modem non economico ma che ragazzi comunque ci vuole per una rete di questo tipo quindi ci viene fornito il modem dobbiamo dargli un articio come vi ho detto i 50 euro dopo la restante cifra arrivare ai 200 euro del modem perché se andate a guardare questo modem è venduto anche non brandizzato wind quindi lo si può acquistare anche per i fatti nostri visto che è un modem appunto prodotto da Huawei per arrivare ai restanti 200 euro i 150 rimanenti vengono suddivisi nei 24 mesi di abbonamento che facciamo appunto a questo servizio quindi avremo 22 euro di canone per quanto riguarda la rete fwa e poi dovremo aggiungerci circa 6 euro più o meno al mese per arrivare a coprire il costo di questo modem che poi ovviamente diventerà nostro perché l'abbiamo pagato poi ovviamente le prestazioni essendo ad onde radio variano anche in base a dove l'avete nell'abitazione perché se questo modem ovviamente lo mettete in una taverna sottoterra capite che avrà delle prestazioni più limitate perché comunque le onde radio che arrivano dall'esterno arriveranno in maniera più debole al modem che è la stessa cosa che succede con un cellulare se io con il cellulare vado giù in taverna ovviamente non ho le stesse prestazioni che se sto nel mio piano giorno o se addirittura vado all'esterno quindi ovviamente essendo qualcosa che arriva da delle onde radio se è messo in una posizione dove non ha molti ostacoli a livello di muri stiamo parlando avrà davvero delle prestazioni interessanti se la rete wind in quella zona vi copre in maniera importante un'altra cosa che volevo farvi vedere sono come è fatto il modem abbiamo ovviamente qua una presa telefonica classica che ovviamente non ci serve qua abbiamo due prese lan per connettere appunto i nostri dispositivi alla rete lan e poi qua sotto abbiamo un piccolo sportellino vedete dove ci sono due piccole prese queste due piccole prese sono delle presette che servono per andare a collegare un'antenna esterna ma esterna cosa vuol dire che se vogliamo su amazon sono disponibili tantissime antenne esterne perché comunque queste prese sono universali quindi queste antenne esterne che vengono vendute per questi tipi di modem ovviamente andrebbero posizionate all'esterno così da avere ancora più ricezione per quanto riguarda le onde radio io lo utilizzo così com'è e ragazzi va già da paura però se uno volesse aumentare le prestazioni può farlo acquistando appunto queste antenne esterne e andando a collegare semplicemente le due spinette dietro al router poi per accedere al router è semplice accedendo da qualsiasi browser con 192.168.8.1 accediamo al menu del router dove possiamo configurare le password e tutte le varie opzioni se le vogliamo configurare ovviamente lui è preconfigurato quindi non c'è bisogno di fare niente a parte andare a modificare la password un'altra cosa che volevo dirvi è che lui è dettato sia di rete a 2,4 che a 5,8 gigahertz quindi a doppia banda di trasmissione per quanto riguarda il wifi all'interno della nostra abitazione è possibile collegare a questo router fino a 64 dispositivi lui è in grado di ricevere fino a 600 megabit al secondo in download per quanto riguarda la rete LTE e 300 mega in upload sempre per quanto riguarda la rete LTE quindi ragazzi dopo che vi ho fatto tutto questo pippotto riguardante la rete internet e il mio calvario con la rete internet è arrivato il momento di fare lo speed test con lui e ragazzi siete pronti quindi 3,2,1 e via lo speed test e ragazzi avete visto cioè capite che per uno che arriva da una finta fibra da 13 14 mega in download e 2 mega in upload qua ragazzi cambia tutta la vita è tutta un'altra cosa e in più spendendo molto meno perché comunque la bolletta di team era intorno ai 41 euro qua ragazzi siamo intorno ai 28 euro e la 41 euro era proprio il costo del servizio qua perlomeno servizio 22 poi ci sono 6 euro del modem però a parità di servizio capite che è tutta un'altra storia minor spesa e molta più resa ma molta più resa qua adesso ragazzi carico i video su youtube che in un lampo sono su cioè è pazzesco e poi un'altra cosa che mi ha veramente impressionato di questa rete fwa di wind è anche la stabilità che non pensavo pensavo fosse più instabile che avesse più alti e più bassi durante la giornata invece no cioè questo test che avete visto ragazzi è fatto a quest'ora che sono le 4 del pomeriggio che non è l'orario della sera ma non è neanche l'orario del mattino presto perché ragazzi al mattino presto ho toccato i 200 mega in download e parlo del mattino presto molto presto ho voluto provare prima di andare al lavoro io vado molto presto al lavoro e ho provato e ragazzi alle 5 del mattino tocchiamo i 200 mega in download cioè sono rimasto così cioè però durante la giornata è così e anche la sera rimane più o meno come quello che avete visto adesso cioè la serie parlo intorno alle 8 e mezza 9 le 10 più o meno quello e anche il ping che ragazzi è importantissimo perché comunque la velocità di risposta e devo dire che è sempre su questi livelli varia dai 30 ai 40 e devo dire che non me l'aspettavo così perché comunque è una rete fwa non mi aspettavo fosse così performante e rimane stabile anche il ping che non supera praticamente mai i 40 neanche alla sera tardi quindi davvero ragazzi è fantastico anche per chi videogioca tanto online secondo me è una rete che vale davvero tanto ripeto perlomeno dove sono io dove abito io ho queste prestazioni poi ovviamente se uno abita nelle poche città in cui iliad ha coperto con la sua fibra 19 euro ci dà delle prestazioni da paura ma sono tre o quattro città e sono tra le tre quattro città più grosse in italia cioè ok però per quanto riguarda la maggior parte della popolazione ragazzi qua con questa cifra arriviamo in zone dove attualmente abbiamo ancora delle reti internet davvero secondo me vergognose per essere comunque una nazione non del terzo mondo cioè parliamoci chiaro è davvero davvero vergognoso soprattutto che ci siano anche operatori fwa che ci danno delle prestazioni non a questo livello essendo anche loro tra i più grossi operatori telefonici della nostra nazione e non riescono a darci un fwa di questo livello non so perché ragazzi ma secondo me da quando wind si è unita a tre è diventata davvero incredibile perché hanno unito le loro antenne hanno unito la loro tecnologia hanno unito tutto quel cacchio che volete e ragazzi è tanta tanta roba bisogna dirlo come io ho detto se una cosa va bene secondo me va pubblicizzata e ripeto wind non mi ha detto di pubblicizzare niente perché wind secondo voi calcola un mio canale youtube ma anche no quindi è proprio ragazzi che ci tenevo perché sono talmente contento della scelta che ho fatto che volevo condividerla poi magari tra 3 4 5 mesi cambierà tutto perché limitano qualcosa non lo so attualmente è così quindi ragazzi se questo mio video in cui ho condiviso con voi così che magari anche voi che avete dei problemi con la vostra rete internet domestica adesso li potete risolvere e sapete che si possono risolvere cercando anche fra le reti fwa che magari tanti di voi non conoscevano o che magari sono titubanti nel fare la scelta delle fwa perché non è una cosa fisica come il cavo che vi arriva in casa ragazzi lasciatevi andare e non abbiate paura secondo me fwa è una tecnologia più che valida soprattutto se gestita bene dall'operatore che ve la fornisce quindi se questo mio video vi è piaciuto e vi sta a tutti lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novità spoiler dei prodotti che arrivano qua sul canale spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni tantissime cose arrivano su instagram quindi vi invito a seguirmi anche lì sempre serviva ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i drone e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video ciao